dopo l'impennata di ieri oggi casi in leggero calo in regione torna lo zero alla voce decessi a rimini resta solo una terapia intensiva disavventura sant'arcangelo per fortuna senza conseguenze per dei giovani che sono saliti su una giostra e sono rimasti bloccati li hanno soccorsi i vigili del fuoco a cattolica ieri sera la seduta di insediamento per il nuovo consiglio comunale come nelle previsioni nominato alla presidenza gessaroli calcio il rimini capolista fa visita al mezzolara squadra in frenata dopo un buon inizio rosa al completo per il tecnico gaburro buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di carotg parliamo della situazione del coronavirus contagi in leggero calo oggi in emilia romagna dopo il forte aumento di ieri stabili invece nel riminese la buona notizia di oggi riguarda i decessi torna lo zero in tutta la regione sono 561 nuovi positivi in emilia romagna un quinto dei quali concentrati in provincia di bologna un numero in calo rispetto all'impennata di ieri quando erano stati 618 i tamponi processati sono stati 28 mila e il tasso di positività è passato dal 2,2 per cento all'1,9 la buona notizia che finalmente nelle ultime 24 ore non sono stati comunicati decessi legati al virus la cattiva invece è che aumentano i ricoveri nei reparti non critici più 16 rispetto a ieri 318 in totale anche se calano di 4 pazienti quelli nelle terapie intensive a rimini passano da 2 a 1 dove restano ricoverati 36 mila romagnoli nel riminese il numero di contagi resta simile a ieri sono 47 due meno del giorno precedente le persone che hanno contratto il virus la stragrande maggioranza con sintomi questa mattina al punto tamponi drive through dell'infermi è tornata ad esserci una discreta fila di auto nell'ultima settimana in provincia sono stati 67 casi accertati ogni 100 mila abitanti le guarigioni comunicate oggi sono 20 in tutta la regione 229 numeri decisamente più bassi di qualche settimana fa capitolo vaccinazioni in regione prosegua ritmo serrato la somministrazione delle terze dosi con un incremento esponenziale settimana dopo settimana basti pensare che dalle 1548 nella settimana che va dal 16 al 23 settembre sia passate alle 44 mila 285 terze dosi del periodo 30 ottobre 5 novembre addirittura la settimana precedente si è toccato il picco di 54 mila e intanto i contestatori della gestione della pandemia continuano a scendere in piazza secondo le nuove disposizioni senza più cortei ma in modalità statica oggi pomeriggio in piazza tre martiri da rimini c'è stata una manifestazione promossa dal movimento libertà rimini per dire no recitava l'annuncio dell'evento al green pass all'obbligo vaccinale alla discriminazione dei non vaccinati e alla dittatura che si starebbe instaurando in apertura si è voluta ribadire la natura pacifica e spontanea della protesta analoga manifestazione si è svolta nel pomeriggio a cattolica in piazza primo maggio ieri sera poco dopo le 22 i vigili del fuoco di rimini sono intervenuti per una giostra che era rimasta bloccata a luna park allestito a sant'arcangelo per la fiera di san martino al momento del guasto tre ragazzi sono rimasti bloccati a diversi metri di altezza da terra i vigili del fuoco hanno predisposto una manovra speleo alpino fluviale trasportando a terra i tre ragazzi in buone condizioni si è trattato di un guasto tecnico che richiederà alcuni giorni per la riparazione nel pomeriggio c'era stato il sopralluogo della commissione di vigilanza che aveva dato il via libera all'apertura del luna park sono stati identificati denunciati gli amici della giovane rapinatrice di varese arrestati in agosto dopo lo scippo in zona porto a riccione di una catena d'oro ai danni di una turista di novara si tratta di altri tre minorenni tra cui un'altra ragazzina residenti in provincia di varese subito dopo la rapina era stata arrestata una 17 anni di varese ora grazie alla visione degli impianti della video sorveglianza gli inquirenti sono riusciti a identificare gli altri tre i carabinieri hanno accertato che i minori attraverso l'utilizzo di una app per il cellulare avevano scansionato i propri documenti di identità falsificandoli così potevano risultare maggiorenni e per notare in hotel senza la prevista autorizzazione di accompagnatori maggiorenni insegue due ladri e viene preso a pugni è successo l'altro ieri in stazione a rimini dove un pasticcere riminesi ha bloccato un tunisino di 17 anni e una ragazza algerina di 15 che poco prima avevano fatto sparire dal furgone dell'artigiano il telefono cellulare davanti alla richiesta di restituirlo i due minori lo hanno aggredito e colpito con un pugno in pieno volto gli agenti della polfer però sono riusciti a fermarli e a restituire il cellulare all'uomo per il tunisino autore materiale del furto e dell'aggressione si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza minorile di bologna la ragazzina invece è stata denunciata e poi affidata alla madre si è svolta ieri sera cattolica la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale che è stata ospitata dal teatro della regina e trasmessa in diretta su icaro tv in attesa del completamento dei lavori a palazzo mancini nessuna sorpresa nell'elezione del presidente del consiglio come nelle previsioni e massimiliano gessaroli eletto nella coalizione del centro-destra con alleanza civica il nuovo presidente del consiglio comunale di cattolica la nomina a votazione segreta è avvenuta nella seduta di insediamento del consiglio al teatro della regina vicepresidente alessandro montanari del partito democratico la sindaca foronchi anche ufficializzato le deleghe per alcuni consiglieri che affiancheranno la giunta marco magnani per innovazione digitalizzazione e sviluppo sostenibile elena giusini culture biblioteche alessandro montanari per sport e tempo libero davide bertozzi per le politiche giovanili e filippo casanti per demanio e società partecipate Grazie a tutti! Grazie a tutti! Prima terracce! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 questa sera alle 20.35 siamo in conclusione vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play, grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona domenica Grazie a tutti